Maria Angela Gelati organizza da 17 anni questo convegno, questo festival dedicato al rumore del lutto in Italia e quest'anno è una giornata particolare perché anche a Genova questo convegno viene realizzato. Alcune precisazioni ce le dà Maria Angela? Sì, quest'anno celebramo il diciottesimo anno di festival e lo celebreremo anche a Genova attraverso queste due giornate intense di convegni interdisciplinari con ospiti d'eccezione e anche un monologo teatrale dedicato a Gasman. È molto importante ragionare su questi temi che sono temi universali che riguardano tutti per avere una visione più completa della vita in tutte le sue spaccettature, quindi vi invitiamo a respirare meglio la vita vivendo intensamente, abbracciando ogni istante che è lo slogan del nostro festival con 60 eventi, alcuni dei quali proprio qui a Genova. Grazie dottoressa Gelati.